Ciao a tutti ragazzi qui Darkness e benvenuti a questo nuovo video sempre su Battlefield 4 Oggi voglio parlarvi della SW40, un breve video dedicato a questa pistolina che ha una nuova arma da fianco che è stata introdotta con il DLC Naval Strike e che non è nemmeno difficilissima da sbloccare se non sbaglio soltanto un paio di uccisioni con le RGO Impact le granate Impact ne abbiamo due, fanno 80 di danno, è davvero facile fare uccisioni quindi ce l'avrete in pochissimo tempo Ora, questa pistola è di nuovo una pistola double action, un revolver quindi avrà solo 6 colpi nel caricatore, un tempo di ricarica estremamente lungo e un ritardo sul colpo è esattamente come era la Rex su Battlefield 3 forse un pochettino meno di danno in ogni caso un'arma davvero davvero ottima, un'arma da fianco davvero ottima a differenza della 44 Magnum e della Rex di Battlefield 4 non ha il ritardo sul colpo così esagerato nel senso, un ritardo c'è, ma è talmente minimo che ce ne accorgiamo appena e, fatta una volta che ci abbiamo fatto l'abitudine, sarà davvero un'ottima arma da usare Peccato per il mirino iniziale, il mirino metallico iniziale perché soprattutto sulle armi da fianco mi piace tenere il mirino metallico semplicemente perché mi dà una sensazione di non so che che mi piace e quindi solitamente tengo quello però qui un Ghost Ring farà a caso nostro quindi un mirino che è anche semplice da sbloccare che vi consiglio perché si vede meglio dove si sta sparando soprattutto per ciò che riguarda l'allineamento verticale non tanto quello orizzontale quanto quello verticale perché il problema principale del mirino iniziale dell'SW40 è quello che non sappiamo mai se stiamo sparando troppo in alto o troppo in basso sappiamo soltanto se stiamo sparando troppo a destra o troppo a sinistra quindi sopra un tot di distanza faremo fatica a fare uccisioni per di più l'Ipfire non è nemmeno tanto impreciso ho fatto tante uccisioni in Ipfire quanto in Fuoco Mirato è un'ottima arma semplicemente perché essendo reattiva anche se ha solo 6 colpi mettendo in assegno già 3 faremo un'uccisione quindi un'ottima arma da fianco volevo soltanto dirvi che è l'unica rivoltella per ora presente sul Battlefield 4 che secondo me vale la pena usare perché semplicemente il ritardo sul colpo rende la 44 Magnum e la Rex inaffidabili inaffidabili nelle situazioni in cui a me piace usare la pistola cioè situazioni di pericolo dove ho bisogno di cambiare arma al posto di ricaricare certo altre pistole tipo delle 45 o calibro più basso sono più semplici perché hanno un tempo di ricarica più corto e quindi possiamo usarle per più tempo quindi se ci ritroviamo in una situazione di panico e cambiamo arma, uccidiamo il bersaglio e poi abbiamo tempo di ricaricare l'SW40 fa a caso nostro però se ci ritroviamo nella situazione di non riuscire a ricaricare l'arma principale perché magari stiamo usando il FAMAS che ci mette tanto a ricaricare ci ritroviamo davvero in difficoltà perché ci mette tanto a ricaricare anche l'SW quindi quello sarebbe una situazione problematica per quest'arma per il resto è un'ottima arma come ho già detto ve lo consiglio e noi ci vediamo al prossimo video che uscirà a breve e nel prossimo video farò, recensirò il FAMAS su richiesta di un iscritto noi ci vediamo al prossimo video belle ragazzi ciao